Due giorni per informare la popolazione, per lottare contro una cattiva alimentazione, per promuovere stili di vita che aiutino a prevenire i tumori. In occasione della quindicesima edizione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica, la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, è presente con i suoi volontari nello stand di Via Roma di fronte a Castelvecchio per sensibilizzare sul tumore al seno. Si calcola che nel percorso della vita della donna, una donna in Italia, allo stato attuale, ogni nove, forse qualcosina di più, andrà incontro a questo tumore nel corso della sua vita. Su cosa si può agire per la prevenzione? Allora, non esiste una prevenzione primaria in quanto non conosciamo le cause. Esiste una prevenzione secondaria nel senso di diagnosi la più precoce possibile che oggi è una diagnosi addirittura preclinica, nel senso che si dovrebbe arrivare, grazie ad alcuni accertamenti strumentali, in particolare la mammografia, ad arrivare a una diagnosi prima ancora che il tumore si manifesti clinicamente. Ecco perché la mammografia ha acquisito una grossa importanza e si fanno degli screening che effettivamente hanno portato notevoli successi in campo medico. Lei ha combattuto il cancro al seno, ha vinto. Cosa si sente di dire alle donne? Di fare prevenzione, di fare tanta tanta prevenzione perché io facendola sono riuscita a risolvere il mio problema. Se non avessi fatto la prevenzione probabilmente mi troverei in uno stato diverso di quello di adesso. Nello stand ci sono olio extravergine di oliva e taralli biologici per invitare i cittadini ad assumere una sana e corretta alimentazione e per prevenire il problema sempre più diffuso dell'obesità e del sovrappeso infantile e dell'adulto. Per le donne la prevenzione in assoluto è la prevenzione del tumore al seno e dei problemi ginecologici, ma soprattutto è instillare nelle donne la certezza che loro possono fare molto per la famiglia perché è la donna che cucina e noi purtroppo siamo quello che mangiamo e quindi quello che va in tavola va per i bambini, va per il marito, va per i figli adulti e quindi la donna io la vedo proprio come un'ambasciatrice delle buone abitudini, un'ambasciatrice della salute in famiglia. È consigliato nell'ottica di una prevenzione il discorso di tenere sotto controllo il peso, evitare il sovrappeso, attività fisica, alimentazione nel senso di una dieta prevalentemente mediterranea, relativamente povera di carni di animali di terra, soprattutto di carni rosse e ricca invece di pesce e di frutta, verdura e cereali in particolare.